Ex scuole rurali in vendita. È stato pubblicato l'apposito avviso sul sito del Comune Nisseno relativa alle scuole rurali di proprietà comunale attraverso un'asta pubblica con il metodo dell'offerta segreta da confrontare con il prezzo di gara che si svolgerà il 6 dicembre. Si tratta di nove lotti, un immobile incontrato a Bulgarella, uno incontrato a Misteci, un fabbricato incontrato a Favarella Bassa, uno incontrato a Gesso Lungo, un altro immobile incontrato a Grotta Rossa, Contrada San Martino, Mimiani Bosco, Marcato d'Arrigo e la scuola elementare rurale di Contrada Santa Lucia che come indicato nel documento risulterebbe demolita e dunque viene inserito soltanto il prezzo del terreno. Mentre negli altri casi, tra fabbricato e terreno, i costi totali variano da poco più di 36.000 euro sino a quasi 10.000. Un singolo soggetto in possesso dei requisiti necessari può presentare offerta anche per più lotti, si legge. Se ammesso alla gara può essere aggiudicatario anche di più lotti ove le sue offerte siano le migliori per il Comune. Si parla anche delle destinazioni d'uso ammesse, cioè quelle congruenti con le caratteristiche tipologiche di ciascun manufatto. In particolare, si precisa, le scuole rurali in gran parte oggi inutilizzate devono essere destinate ad attrezzature scolastiche o a servizi pubblici di interesse collettivo. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 5 dicembre 2022, entro e non oltre le ore 12. Le offerte dovranno pervenire o essere recapitate con qualsiasi mezzo al protocollo del Comune di Caltanissetta di Via Duca degli Abruzzi, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura recante, appena di esclusione, il nominativo, il domicilio del mittente e la dicitura. Non aprire offerta relativa alla vendita di beni immobili di proprietà comunale, mediante asta pubblica da consegnare all'ufficio patrimonio. L'apertura dei plichi in forma pubblica poi avverrà il 6 dicembre alle ore 10, nella sede della direzione seconda Servizi Patrimoniali, sempre in Via Duca degli Abruzzi.